I cristiani sono uomini e donne con la gioia nel cuore, la gioia del Vangelo e la gioia di essere stati eletti, salvati e rigenerati da Gesù che ci accompagna nelle sofferenze di questa vita. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando la prima lettera di San Pietro Apostolo. Il cristiano sa che Dio lo ricorda e lo accompagna, ha proseguito Papa Francesco, e non deve scegliere la tristezza come il giovane del Vangelo che si è avvicinato a Gesù per seguirlo e all'invito di lasciare le ricchezze terrene per seguirlo, se n'è andato rattristato perché possedeva molti beni. Era attaccato ai beni. Gesù ci aveva detto che non si può servire a due padroni, o serve il Signore o serve le ricchezze. Le ricchezze non sono cattive in se stesse, ma servire la ricchezza è quella della cattiveria. E poveretto se n'è andato triste. Egli si fece scuro in volto e se n'è andò rattristato. Ma quando nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, nelle nostre istituzioni troviamo troviamo gente che si dice cristiana e vuole essere cristiana, ma è triste, qualcosa succede lì che non va. E dobbiamo aiutarle a trovare Gesù, a togliere quella tristezza, perché possa gioire del Vangelo, possa avere questa gioia che è propria del Vangelo. Grazie. 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 Grazie.